I C-4665 è davvero un bel ammasso aperto da osservare a bassi ingrandimenti e che tutti hanno trascurato o tralasciato nei loro cataloghi. Ingiustamente non venne riportato, né nel catalogo Messier, né venne annotato da William Herschel. Altra cosa curiosa è il fatto che esso è situato circa 16 gradi a nord dal piano galattico, posizione insolita per un ammasso aperto. Probabilmente la sua giovane formazione deriva da una condensazione di polveri e gas anomala. L'oggetto, se visto con un binocolo sotto un cielo scuro è davvero affascinante.